Faccetta nera intonata alla radio, Elena Donazzan, assessore regionale alla formazione al lavoro, nella bufera. Ci scherza su, sdrammatizza, poi si scusa, ma il centro-sinistra vuole la sua testa. La trasmissione è la zanzara, su Radio 24, Giuseppe Cruciani gliela fa canticchiare. Volevo già iniziare con la canzone. Vai, canta, 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 canta subito. Faccetta nera, bella vissina, aspetta e spera che già allora si avvicina. Poi non me la ricordo tanto. Ma come non te la ricordi, scusa? Cioè, una come te, così, attaccata a ventenni, nostalgica. L'esponente dei Fratelli d'Italia non si sottrae alle domande dei conduttori. Però io dico, Elena, tra faccetta nera e bella ciao, tu non hai dubbi. E anche uno, ma come ho detto, cioè, nelle case uno cantava una cosa, uno cantava l'altra. Ho capito, ma tu, oggi... Perché non erano esattamente uguali, però. Una è una canzone di libertà, l'altra è una canzone legata alla tirannide. Il caso monta e in conferenza stampa il presidente del Veneto, Luca Zaia, prende le distanze. L'assessore si deve scusare, quantomeno, visto e considerato che stiamo parlando, conosco la sua sensibilità e quindi penso, immagino che, non so, magari è già provveduto, lo farà. Faccetta nera riprende, purtroppo, un periodo storico buio della nostra storia. Conoscete le mie idee e penso che siano doverose le scuse. Dopodiché prendo atto di tutte queste richieste. Ne ho tutti i giorni di queste richieste. Le scuse di Donazzang arrivano nel pomeriggio, seppur so pesando le parole e contrattaccando. Sto subendo minacce e insulti. Pazienza, commenta l'assessore. Non accetto però lezioni sull'approccio che l'Italia tutta dovrebbe avere sul secondo conflitto mondiale. Va assicurata la dignità e la memoria di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita durante la guerra civile tra il 43 e il 45 e continua. Se a sinistra, tra i pochi che condividono questa necessità, qualcuno si è sentito offeso, me ne scuso. No, le strumentalizzazioni termina accusando proprio la sinistra di perdersi in polemiche sterili invece di occuparsi della pandemia.